Pronti a partire dal lunedì 24 ottobre con la campagna di vaccinazione antinfluenzale in tutta la regione Emilia-Romagna. A disposizione ci sono già 1.150.000 dosi di vaccino, che potranno aumentare fino a 1.380.000 ed essere somministrate in qualsiasi momento della stagione influenzale. In vista di una possibile co-circolazione di virus influenzali e Covid, la campagna punta a innalzare la copertura per le persone ad alto rischio, con un duplice obiettivo ridurre le complicanze legate all'influenza e di conseguenza le accessi ai pronto soccorso. Si punta quindi a raggiungere il 75% di copertura vaccinale nei cittadini dai 65 anni in su e a confermare il trend in aumento e le buone coperture vaccinali del personale sanitario. La vaccinazione antinfluenzale viene offerta gratuitamente alle persone di età uguale o superiore a 60 anni con o senza patologie croniche, donne in gravidanza, medici e personale sanitario di assistenza nelle strutture sanitarie, soggetti di qualunque età ricoverati presso strutture per lungodogenti, persone rientrati nella fascia d'età 6 mesi e 59 anni con patologie croniche che espongono ad elevato rischio di complicanze o di ricoveri correlati all'influenza, addetti ai servizi pubblici di primario interesse collettivo. Il vaccino potrà essere somministrato presso i servizi vaccinali e regionali a pagamento su richiesta degli interessati a soggetti sani che rientrano le fasce d'età 7 anni e 59 anni, ma solo a condizione che venga prioritariamente garantita la vaccinazione delle categorie per le quali il Ministero prevede l'offerta attiva gratuita.